Chi ha attentato alla mia vita mi ha lasciato sfigurato e deforme, ma posso assicurarvi che la mia risoluzione non è mai stata più forte. Nell'intento di garantire la sicurezza e una durevole stabilità, la Repubblica verrà riorganizzata trasformandosi nel primo impero galattico per una società più salda e più sicura. E' così che muore la libertà, sotto scroscianti applausi.